salve a tutti i gentili spettatori benvenuti ben ritrovati a questa quattordicesima puntata dei conti non tornano la penultima di questo ciclo dedicato alla macroeconomia che come don chisciotte sta diciamo svolgendo insieme all'associazione mmt italia e l'associazione la genesi io sono massimo antonino cascone capo redattore di come don chisciotte punto org e come sempre mia compagnia c'è la collega sonia milone ciao sonia buongiorno ciao massimo saluto a tutti i nostri spettatori oggi sono con noi due esponenti della mmt italia roberto alice e massimo russo che è anche presidente della mmt lombardia benvenuti grazie buongiorno a tutti buongiorno buongiorno è un piacere ritrovarvi allora parto con la prima domanda per roberto perché come dicevo siamo arrivati alla quattordicesima puntata quindi siamo quasi alla fine del nostro ciclo e nelle precedenti puntate abbiamo parlato a lungo della teoria economica della moneta moderna quindi la mmt e abbiamo citato nelle varie puntate alcune volte abbiamo citato la finanza funzionale allora visto che abbiamo deciso di dedicare la puntata proprio a questo concetto chiedo a te roberto di allacciarti un po a tutto quello che abbiamo detto nelle precedenti puntate e introdurci a questo concetto di macroeconomia grazie intanto buongiorno a tutti gli spettatori partirei parlando del suo fondatore a balerner che negli anni quaranta del secolo scorso e non ciò questa teoria che è assolutamente armonica alla mmt e la completa tant'è vero che diversi economisti mmt come la stefani kelton si sono espressi positivamente circa la teoria della finanza funzionale la quale si basa su due principi che potete vedere in diapositiva il primo è molto semplice se il reddito nazionale è troppo basso significa che bisogna spendere di più cioè se c'è disoccupazione quindi le persone non sono completamente occupate questa è la prova per cui bisogna aumentare la spesa pubblica d'altro canto se l'interesse nazionale troppo elevato cioè se il costo del denaro troppo alto significa che manca della moneta e questo va principalmente compensato attraverso un aumento delle riserve bancarie l'approccio della finanza funzionale non è quello di usare paradigmi fissi cioè di pianificare il ciclo economico ma di applicare le leve a disposizione di uno stato che deve essere ovviamente a moneta sovrana per ottenere il fine della piena occupazione il che significa portare al massimo le capacità di benessere e di crescita di quel paese in altri termini la finanza funzionale dice che se un paese ha risorse reali disponibili ad esempio lavoratori inutilizzati il governo deve creare quei mezzi finanziari necessari ad impiegare tutte queste risorse e quindi creare un'economia prospera secondo la finanza funzionale ciò che è importante non è la capacità diciamo di emettere moneta da parte di uno stato a moneta sovrana che il fatto è scontato ma la capacità più importante è quella dell'economia reale di raggiungere un certo obiettivo. Roberto fino a qua abbastanza chiaro però per aiutare i nostri spettatori possiamo fare degli esempi più chiari per capire meglio il concetto? Ma certamente sempre seguendo la visione di Abba Lerner non ci sono vincoli a priori sulla dimensione del debito e sulla quantità di denaro emessa dallo stato dove per debito intendo i titoli di stato il governo può sempre decidere il corretto mix di tassazione debito creazione del denaro dal nulla che meglio si adatta a quel periodo economico a quel momento economico tenendo sempre a mente che lo stato deve perseguire la massimizzazione dei benefici per i cittadini non la soddisfazione di regole contabili astrate oppure anche stupidamente ricercate quindi dobbiamo uscire da quella ideologica scusate da quella ideologica questione che vuole l'impoverimento delle classi lavoratrici in un'ottica globalista di vasi comunicanti cioè chi ha conquistato i diritti deve perderli a favore di altri lavoratori di altri paesi che teoricamente dovrebbero conquistarli questo è un assurdo no? O se vogliamo vederla da un altro punto di vista il lavoro deve uscire da quello schema liberista che lo vuole mercificare a scapito di quella dignità che invece dovrebbe rappresentare pensate a quanto sta accadendo in grecia dove si vuole portare l'età pensionabile fa quasi ridere a oltre i 70 anni rendere ancora più facili licenziamenti addirittura si vuole incarcerare chi organizza scioperi che potrebbero rendere con il lavoro eh che potrebbero rendere il lavoro di chi non aderisce meno proficuo cioè si sta tornando al 700 alla restaurazione di una sorta di democrazia di aristocrazia e il tutto alla faccia del prodiano lavoreremo un giorno in meno alla settimana e sarà come se avessimo lavorato un giorno in più dal punto di vista del guadagno e queste e tutto questo succede mentre ci sono delle guerre deprecabili finanziate dagli stessi soldi che potrebbero servire ad aumentare il medessere dei cittadini e non mandarli a morte soldi anche del popolo greco cioè viviamo in un paradosso economico oppure viviamo in una grande frode dove alcune classi per la verità poche e ristrette si arricchiscono a scapito di tutte le altre grazie roberto per averci introdotto questo questo concetto massimo russo vengo eh da te ehm per chiederti anche conferma da un certo punto di vista nel senso che ascoltando roberto io ho capito praticamente che stiamo parlando di una teoria che è l'opposto delle teorie invece che regolano l'economia moderna l'economia liberista giusto giusto massimo eh effettivamente la finanza funzionale è l'antitesi della finanza eh neoliberista dato che quest'ultima eh non ha come obiettivo la creazione di benessere generalizzato bensì esclusivamente quello di creare profitti per l'elite economica a cui si riferiva prima eh come classi e Roberto eh avrete tutti in mente sicuramente la narrazione portata avanti dal neoliberismo per la quale se la dimensione della torta aumenta aumenterà anche quella delle briciole destinate alle classi meno abbienti ecco questa narrazione oltre a non essere secondo me eticamente accettabile è tra l'altro smentita dai fatti vediamo infatti fasce sempre più larghe della popolazione che sono emarginate dalla vita economica attiva e questo a causa di redditi insufficienti e mentre un uno per cento della popolazione aumenta le proprie ricchezze a tale punto da poter decidere anche il destino delle nazioni da poter incidere sulle scelte politiche delle stesse e quindi di creare quello che potremmo definire un pericoloso deficit di democrazia e se ciò che avviene è il contrario di quello che la teoria propaganda vuol dire che non è una teoria ma è solo un'ipotesi da buttare alle ortiche perché si è verificato nei fatti che non funziona e lo vediamo visto che sta distruggendo il ceto medio a meno che per ammettere l'errore si voglia aspettare di essere tutti morti di media oppure probabilmente qui sta la vera verità di dire chiaramente che l'impoverimento della maggior parte della popolazione sia l'obiettivo vero e in questo caso la teoria ordo liberista applicata nella ue per esempio sta funzionando benissimo pensate anche a quello che sta succedendo con la transizione green in termini di potenziali costi nel medio periodo per le famiglie si pretende di andare in un brevissimo lasso di tempo e tra l'altro quasi solo in europa con conseguenze anche nella competitività delle nostre industrie delle nostre imprese verso la sostituzione del parco auto e alla ristrutturazione di milioni di abitazioni con costi che sono assolutamente non sostenibili dalla maggior parte delle famiglie soprattutto italiane che pur essendo spesso proprietarie della casa in cui abitano spesso hanno anche però limiti redditi scusate al limite della sussistenza per uscire nell'obiettivo che le istituzioni europee si sono incaponite a voler raggiungere sarebbe necessario avere una popolazione in grado di esprimere una domanda che sia per consumi di qualità e che abbia i mezzi finanziari per permettersi quella qualità che si pretende di raggiungere a meno che appunto come dicevo prima l'alternativa desiderata dalla ue sia la decrescita per le classi medie e poi i prodromi si vedono tutti decrescita portata avanti senza alcuna preoccupazione per le conseguenze sociali che ne deriverebbero a meno che si pensi che non sorgerebbero problemi se fosse necessario convincere grandi masse di popolazione occidentale a rinunciare all'auto e per quanto riguarda gli italiani anche alla casa di proprietà evidentemente hanno già pensato ai sistemi di controllo e repressione nel caso di disordini ai quali le nostre società occidentali non sono più aduse ma qui potrebbero andare incontro e qualcosa si inizia a vedere in queste ultime settimane ecco la finanza funzionale si propone proprio di evitare che intere fasce della popolazione vengano abbandonate a se stesse semplicemente per una questione ideologica di ispirazione chiaramente malthusiana e non certo perché mancano gli strumenti e le risorse per risolvere i problemi tutto molto chiaro massimo e anche un po inquietante allora abbiamo visto che la finanza la finanza funziona per la finanza funzionale non ci sono vincoli a priori sulla dimensione del debito però a noi dicono sempre che il debito pubblico ricadrà sulle spalle delle generazioni future è una grossa bugia per spaventarci puoi chiarirci meglio questo concetto massimo certo non staremo ripetere tutto quanto già esposto dal nostro amico giampaolo nella sesta puntata che aveva tema proprio il debito pubblico chi volesse andare a fondo della questione e invitiamo chiaramente tutti i telespettatori a farlo può rivederla ai link che verranno presentati a fine trasmissione o nelle future repliche che abbiamo già previsto di questo primo ciclo di trasmissioni tornando alla domanda dal punto di vista della finanza funzionale per uno stato a moneta sovrana la vendita di titoli di stato non è una reale operazione di indebitamento necessaria a consentire la spesa pubblica piuttosto la vendita di titoli di stato è parte della politica monetaria e ha altri obiettivi il primo è sicuramente quello di aiutare la banca centrale a raggiungere il suo tasso di interesse target del tasso di riferimento a cui poi si coordineranno i vari tassi di finanziamento del settore privato oppure pensando all'articolo 47 della nostra costituzione un altro obiettivo importante dell'emissione dei titoli di stato è la tutela del risparmio dei cittadini ai quali fornire per esempio un interesse vicino al tasso di finanziamento e garantendo quindi il mantenimento del potere d'acquisto anche sulla parte di risparmio non solo di reddito tra l'altro la parte di risparmio chiaramente soffre di più dell'inflazione rispetto alla parte reddito come ancora potrebbe essere un modo per controllare l'inflazione immobilizzando risorse che potenzialmente potrebbero venire spese alimentando una spirale inflazionistica ma il tutto senza distruggerle come si fa invece con le tasse quindi sarebbe un modo per bloccare magari temporaneamente per un certo periodo delle risorse finanziarie al fine di non farle spendere rischiando di far partire i prezzi insomma come vedete l'emissione dei titoli di stato ha diversi obiettivi tranne proprio quello di finanziare la spesa pubblica come invece vogliono farci credere e questo perché la spesa pubblica uno stato moneta sovrana potrebbe farla semplicemente mettendo moneta accreditandola nelle riserve delle banche commerciali che poi pagherebbero i fornitori di servizi e di beni allo stato e il tutto anche eventualmente senza emettere titoli di stato e il rischio di insolvenza dello stato il cosiddetto default roberto passate alla palla allora ma è inesistente come si può come si è potuto capire da quello che ha detto massimo adesso la maggior parte dei macroeconomisti riconosce una fondamentale realtà lo stato con sovranità monetaria può mantenere tutte le promesse di pagamento del capitale e degli interessi quando arrivano a scadenza perché può ricorrere sempre in ogni momento alla creazione della sua moneta dal nulla e questo concetto vale la pena ribadirlo è la sua moneta e ne dispone di come gli pare di come vuole le dichiarazioni che abbiamo sentito tempo fa nel 2010 quelle di obama quando affermò che il governo usa stava finendo i soldi a parte sono ridicole ma comunque dimostrano plasticamente la non conoscenza del funzionamento dei sistemi monetari perché gli stati uniti non sono paragonabili ad una famiglia che ha finito i risparmi che teneva nel barattolo dei biscotti la loro banca la fed può sempre stampare nuovi dollari su richiesta del governo purtroppo invece per l'italia la situazione è diversa perché dall'entrata nell'euro ha deciso di perdere la leva monetaria e quindi usa una moneta di cui non ha il controllo l'euro infatti non le appartiene lo sappiamo per noi l'euro è a tutti gli effetti una moneta straniera assolutamente assolutamente roberto massimo a questo punto ribadiamo diciamo un concetto e lo lascio ribadire a te tramite la mia domanda e cioè avendo ascoltato tutte queste cose avendo ascoltato quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti la domanda anche per chi ci guarda sorge spontanea perché continuiamo a sostenere perché continuano soprattutto poi chi ci soggioca a sostenere lo spauracchio del default anche se poi come dice roberto gli stessi economisti ammettono che uno stato a moneta sovrana non può fallire allora secondo me la ragione principale è che per soggiocare i popoli si sono sempre usati i miti e quello che uno stato debba comportarsi per le sue spese come un'impresa o una famiglia è appunto un mito utile all'elite affinché i popoli ingabbiati in questa credenza rimangano disillusi rispetto anche alla possibilità di migliorare la loro condizione e i loro diritti quando mai il popolo si rendesse conto che lo stato non ha vincoli di bilancio ma solo vincoli reali quindi di risorse e di persone occupabili comincerebbe a chiedersi a chiedere a chi governa perché c'è tanta disoccupazione tanta povertà pur con tante cose da fare e tante persone inoccupate e disponibili a lavorare comincerebbe a chiedersi a chiedere il perché della scelta di lasciare nella disperazione milioni di propri concittadini con le conseguenze poi che vediamo le relative conseguenze di degrado che comunque colpiscono anche i cittadini più fortunati che al momento non vivono in povertà ma in futuro chissà assolutamente assolutamente ecco però a questo punto una domanda più tecnica l'inflazione invece rimarrebbe un problema reale allora hai usato un aggettivo e secondo me la discriminante hai usato l'aggettivo reale nel senso che l'inflazione rischierebbe di attivarsi per un aumento di moneta immessa nel sistema se non ci fossero le risorse reali da mettere in gioco per migliorare la vita delle persone e non ci fossero più persone disposte ad attivare queste risorse con il loro lavoro non mi sembra però che in italia stiamo vivendo questa situazione per cui mi preoccuperei più degli altri fattori che scatenano l'inflazione questo perché quello dell'aumento o diminuzione di moneta nel sistema sarebbe sotto il controllo di uno stato a moneta sovrana mi preoccuperei quindi più del fatto che si scatenano eventi inflattivi e recessioni attraverso decisioni come per esempio quella per stare all'attualità di mettere sanzioni alla Russia e non comprare più il gas direttamente da loro andandolo a pagare non qualche punto percentuale in più ma diverse volte in più da paesi terzi e magari con triangolazioni che fanno rientrare dalla finestra lo stesso gas russo uscito dalla porta come dimostra poi la crescita del pil russo alla faccia delle sanzioni che sembrano rivolte più verso la classe media occidentale che non verso la Russia stessa il tutto per poi aumentare i tassi da parte della BCE per controllare un'inflazione che nulla c'entra con l'aumento della capacità di spesa della popolazione ma è tutto dovuto a una scarsità artificiosamente creata di una materia prima importante che ha fatto al netto delle speculazioni che comunque ci sono per esempio mercato del tft lievitare i prezzi da qui quindi l'importanza per chi governa di mantenere in vita i miti economici che il neoliberismo grazie anche a una stampa e una tv sempre più asservite e controllate continua a portare avanti come una superstizione proprio per sottomettere i popoli direi che hai messo il dito sulla piaga quando parli di stampa comunque torniamo a noi all'inizio avete detto che un obiettivo della finanza funzionale è quello di dare lavoro a tutti il che è esattamente ciò che è stabilito dalla nostra costituzione roberto come si raggiunge questo fine e perché altri modelli economici non lo raggiungono sì ok dunque ehm beh rendere un lavoro disponibile per tutti è un grande risultato eh tuttavia non è il modello economico che decide socialmente cosa è utile eh il modello economico fornisce i mezzi per raggiungere il risultato un risultato che è assolutamente sociale e politico innanzitutto e per la nostra visione che è anche quella dei padri costituenti raggiungere la piena occupazione che porta al benessere diffuso quindi alla reale democrazia allo stato di diritto la dignità umana sono obiettivi fondamentali la finanza funzionale applicata alla visione mmt può arrivare a raggiungere questi risultati ad esempio la spesa pubblica potrebbe prevedere il finanziamento di piani di lavoro garantiti o se preferite fare in modo che lo stato sia il prestatore di lavoro di ultima istanza cioè laddove l'economia di mercato non fosse sufficiente a distribuire lavoro e benessere in quanto non riesce a far lavorare tutti i lavoratori disponibili quindi c'è disoccupazione quello che sta succedendo ora sostanzialmente lo stiamo vivendo a questo punto lo stato assorbe quei lavoratori in eccesso per rilasciarli nuovamente al settore privato quando quest'ultimo li richiede proprio in quell'ottica dinamica che è tipica della finanza funzionale oppure possiamo anche fare il caso inverso così testiamo la teoria no facendo un esempio pratico anche a favore dei telespettatori se un'economia scusate codesse già di una situazione in pieno impiego probabilmente non avrebbe senso aumentare la moneta nell'economia reale evitando quindi un eventuale spirale inflazionistica ecco che il comportamento dinamico ancora una volta equilibra i momenti economici ma vorrei per massima chiarezza visto che mi hai chiesto degli esempi no fare un terzo caso che ne piace tanto no un paese con piena occupazione ma di basso livello il governo potrebbe decidere di creare mezzi finanziari per aumentare le abilità dei lavoratori e innovare le tecnologie cioè fino a ieri facevano tappi da bottiglia adesso vogliono fare treni aeroplani va benissimo quindi secondo la finanza funzionale i rischi di inflazione conseguente all'aumento conseguenti all'aumento di domanda da disponibilità finanziaria sono mitigati dalle produzioni addizionali o per spiegarsi meglio i cittadini che a causa della dell'aumento della disponibilità finanziaria fatta attraverso la spesa pubblica si ritrovano essere un po più ricchi in quel momento possono sul mercato aumentare la domanda cioè creare una nuova fetta di mercato se in momento iniziale questa questa domanda in più non è controbilanciata dall'offerta perché non si sono ancora organizzate le aziende potrebbe esserci sì un rischio di aumento dei prezzi ma subito dopo questa nuova fetta di mercato sicuramente non sa eh gli imprenditori che ha che operano sul mercato non se la faranno sfuggire e quindi si organizzeranno per mettere sul mercato una nuova offerta che controbilancia la domanda accaparrandosi la fetta del mercato nuova ecco che i prezzi tornano dove erano prima per quello che non non c'è questo pericolo bene bene Roberto resto su di te eh nella terza puntata di questo nostro ciclo abbiamo parlato del modello costituzionale tu giustamente eh hai parlato di un modello costituzionale che è di tipo sociale e lo abbiamo paragonato invece a quello liberista che ovviamente è quello che attualmente stiamo vivendo che controlla l'economia la finanza funzionale di cui stiamo parlando adesso verso quale tipo di modello orientata? Ma sicuramente verso il modello economico sociale quello scritto in costituzione e abbiamo detto prima ben si sposa con la MMT e invece eh è molto lontano dagli schemi dei modelli economici liberisti che proprio per la loro ideologica negazione che lo Stato non funziona come una famiglia sono per natura inadatti a raggiungere quel benessere sociale del dettato costituzionale. Vedi Abba Lerner rifiuta quella convinzione secondo cui lo Stato dovrebbe gestire le proprie finanze come fosse una famiglia o un'impresa. Cioè dovrebbe inseguire un equilibrio contabile che nel pensiero liberista dovrebbe essere sinonimo di finanza sana. Ma questo concetto non è applicabile ad uno Stato sovrano che grazie al suo potere di emissione della moneta come monopolista è fondamentalmente diverso da una famiglia o da un'impresa che non ha questo potere. Abba Lerner non vede alcuna ragione per cui uno Stato debba avere il bilancio in pareggio in ogni anno o in un ciclo economico o in qualsiasi altro momento. Per Lerner e anche per noi la ricerca del pareggio di bilancio non è funzionale. Avere il bilancio in pareggio non è funzionale a perseguire l'interesse pubblico per seguire quel benessere diffuso come ad esempio la piena occupazione. Poi se ogni tanto il bilancio è in pareggio o anche il surplus non è un problema. Significa che abbiamo messo troppa moneta nel sistema e quindi va ritirata. Ma quando è necessario aggiungerne altra non bisogna avere timore di fare deficit. Così come è anche sbagliato vincolare il bilancio a qualsiasi rapporto con il PIL. Arbitrario che sia non ha importanza. Quindi per rispondere alla tua domanda la finanza funzionale come la MMT è orientata verso il modello economico sociale assolutamente verso il benessere della comunità e persegue la piena occupazione come descritto nella Costituzione. Massimo vengo a te. Sappiamo bene che gli USA dopo la seconda guerra mondiale nel 48 si trovarono di fronte ad una grande recessione economica tanto che la politica era in seria difficoltà. È vero che anche gli economisti liberisti si ricredettero sul loro modello e avvicinandosi al pensiero della finanza funzionale? Allora effettivamente c'è una cosa curiosa e interessante da sottolineare di quel periodo. Mi riferisco al fatto che alcuni economisti divenuti poi acerrimi nemici delle politiche chenesiane e anche piuttosto conservatori riguardo la limitazione della politica fiscale monetaria, mi riferisco come esempio a Milton Friedman, durante gli anni del dopoguerra si esprimevano a favore dei concetti della finanza funzionale. Paradossalmente fu proprio Friedman che nel 1948 fece una proposta che era quasi identica alla visione della finanza funzionale di Abba Lerner. Riassumendo, in un articolo appunto del 48 Friedman presentava una proposta secondo la quale il governo avrebbe dovuto gestire un bilancio in pareggio solo a piena occupazione, realizzando invece deficit, e sottolineo deficit, nei periodi di recessione e invece dei surplus nei cicli di boom economico, quindi adattandosi a quelli che sono i cicli economici, in un'ottica tra l'altro anticiclica. Nel punto di vista. La proposta di Friedman si spingeva addirittura oltre, proponendo che tutte le spese del governo venissero pagate emettendo denaro dello Stato. Riconosceva così che i deficit di bilancio portano alla creazione netta di ricchezza finanziaria nel settore privato e sono quindi la ricchezza del settore privato e non il debito dei cittadini, come si vuole far credere. Mentre invece i surplus, al contrario, conducono a una riduzione netta della ricchezza finanziaria del settore privato e quindi lo impoveriscono. Friedman proponeva quindi di combinare la politica monetaria e la politica fiscale, come noi europei purtroppo, almeno quelli aderenti all'eurozona, non siamo più in grado di fare, usando il bilancio per controllare l'emissione monetaria in modo anticiclico. Come vedete una visione molto aderente alla finanza funzionale di Lerner e alla stessa teoria monetaria di MMT. Friedman arrivò addirittura a proporre una riserva obbligatoria del 100% per le banche private, in maniera tale che non ci sarebbe stata più creazione di moneta orizzontale da parte del sistema delle banche commerciali, potendo queste ultime fare credito solo accumulando a quel punto una riserva di moneta immessa dallo Stato. Se ci pensate, Friedman è stato per un periodo della sua vita più realista del re, poi qualcosa è cambiato e magari sarebbe interessante sapere cosa lo ha portato a una giravolta tale di cui si è reso protagonista. Infatti, infatti. Roberto, voglio fare l'avvocato del diavolo e farti una domanda. Diciamo, in questo ciclo di puntate abbiamo compreso che uno Stato a moneta sovrana può facilmente influire e regolare il mercato interno e portare quindi alla piena occupazione. però non può certo modificare quella che è la volontà dei cittadini, nel senso che i cittadini potrebbero essere propensi a comprare delle merci estere, quindi creando così un flusso monetario che, andando verso l'estero, non è disponibile per il mercato interno e quindi per favorire il lavoro e l'occupazione. Ecco, in questo caso, la finanza funzionale che tipi di interventi prevede? Sì, dunque, quello che dici è assolutamente reale, tuttavia con l'uso di una moneta sovrana e il concetto della finanza funzionale possiamo fare vari tipi di intervento. Il primo è quello più immediato, cioè compensare la bilancia con l'estero in modo che le risorse finanziarie sottratte ai cittadini siano reintegrate da ulteriori piani di spesa pubblica. Il secondo intervento, invece, più strutturale è quello di finanziare i settori o il settore dove maggiormente si verifica l'importazione, per realizzare all'interno un prodotto che possa essere concorrenziale e magari anche migliore, in passato è già successo. Poi si può pensare anche a tasse sull'importazione, ma questo potrebbe rovinare i rapporti con gli altri paesi, soprattutto quelli commerciali, e quindi conviene fare in modo che sia il proprio popolo in grado di realizzarsi quello che più desidera o quello che è più strategico per il paese. Senza dimenticare che non sarà peccato se importeremo un po' di buon whisky dalla Scozia, in cambio magari ci compreranno qualche opera della nostra fantasia, non c'è nulla di male. In un mondo equilibrato e funzionale anche la bilancia con l'estero dovrebbe essere equilibrata, non tanto perché le importazioni siano il male, infatti non lo sono, ma perché disequilibri troppo ampi sulla bilancia commerciale possono creare problemi. Il primo più tecnico, ad esempio sul cambio della valuta, comunque la banca centrale può mettere rimedio a questo, ma il secondo è di tipo etico, per me è molto più importante. Non è bello fare sempre l'esportatore netto in un mondo finito, dove si obbligherà qualcun altro a fare l'importatore. Ecco, quindi possiamo dire che la finanza funzionale non prevede una vera e propria politica di esportazione, da quello che ho capito. Se Roberto permette, questo posso rispondere io molto velocemente. Allora, dobbiamo considerare una serie di fattori. Innanzitutto la finanza funzionale vieta a nessuno, quindi non vieta di lavorare per il mercato estero. Però, come abbiamo già dimostrato nella terza puntata, anzi ha dimostrato Roberto, essere esportatori netti significa un po' giocare a rubamazzo, nel senso che se sul pianeta vogliamo tutti essere esportatori netti, qualcuno non ci riuscirà perché non ci saranno sufficienti importatori. E quindi qualcuno rimarrà con il cerino in mano, creando potenzialmente anche delle tensioni, oltre che sul cambio magari anche tensioni un po' più gravi. Inoltre, utilizzare la nostra forza lavoro per esportare solamente, come vorrebbe fare qualcuno, significa sottrarre questa forza alla produzione di beni e servizi rivolti alla crescita del benessere interno allo Stato. E questo con una moneta fiat che, purché sovrana naturalmente, può facilmente finanziare fino all'esaurimento dell'ultimo lavoratore risorsa produttiva, senza alcun sacrificio finanziario per lo Stato e senza inflazione, visto che andremo ad aumentare la produzione di beni e di servizi. Esattamente quindi il contrario di quello che per esempio diceva Monti, quando ammetteva in maniera entusiasta, la ricercata da parte della UE con pressione dei consumi interni per favorire la competitività delle esportazioni. Quindi sostanzialmente dovremmo lavorare solo per gli altri, sacrificando le nostre esigenze e il nostro benessere. Tutto molto chiaro Massimo. Roberto, mi chiedo però se questo modello è adottabile anche per i paesi in via di sviluppo o ci sono dei limiti per la sua applicazione? Ma no, non ci sono dei limiti, semplicemente il modello, essendo dinamico, va adattato. Vedi, per uno Stato in via di sviluppo è normale cercare la via dell'esportazione, in quanto il mercato interno deve ancora costruirsi, non ha le risorse finanziarie per acquistare i beni prodotti. Però a quel punto è compito dello Stato con la sua moneta sovrana e a cambio libero, fare la spesa pubblica e distribuire la ricchezza e quindi far partire il mercato interno, proprio il contrario di quello che aveva detto appunto Monti, tutto orgoglioso. Via via che queste ricchezze saranno a disposizione del cittadino, sempre meno le aziende si orienteranno al mercato esterno e sempre più andranno a soddisfare i consumi interni, anche perché è più facile lavorare sul mercato interno che su quello estero. Vorrei però a questo punto evidenziare anche il lato del paese importatore, per sfatare un altro mito, che per la finanza funzionale semplicemente non esiste. Quando lo Stato importa con la sua moneta, deve comprare presso la banca centrale estera la moneta della banca centrale estera, per poter acquistare i beni che importano e quindi la banca centrale estera avrà un surplus di moneta dello Stato importatore. Faccio un esempio pratico. Se la Cina esporta beni in America, la banca centrale americana comprerà dei reminbi e la banca centrale cinese avrà dei dollari. A questo punto, con questi dollari, la banca centrale cinese, siccome non può usarli sul mercato interno, compra dei titoli di Stato degli americani, dei bond. Ecco, a questo punto i liberisti dicono che i figli e tutte le loro progenie dello Stato importatore hanno sulle spalle quel debito maledetto e che andrà ripagato. Ecco, anche questo è falso. Come abbiamo detto prima, lo Stato importatore può sempre mettere nuova moneta e ripagare quei titoli di debito e anche i suoi interessi. A quale impegno finanziario per la banca centrale? Nessuno. Quello della carta e dell'inchiostro, ben poca cosa. Quindi, lo Stato importatore potrebbe avere dei problemi, sì certo, ma non quello di rimanere senza la sua moneta, della quale è l'emettitore monopolista. Direi che è molto chiaro. Massimo, Roberto, siamo in chiusura, vogliamo fare una sintesi di quanto abbiamo detto oggi per far capire meglio a tutti i nostri spettatori. Massimo, vuoi iniziare tu? Sì, inizio io e poi lascio le conclusioni finali a Roberto. Io, come conclusione, riaffermerei con forza che la politica di uno Stato moneta sovrana, che vuole adottare un modello economico come quello disegnato dalla nostra Costituzione, trova nella finanza funzionale e nella MMT gli strumenti per adeguare la spesa pubblica al fine di contrastare eventuali crisi cicliche, che poi più che eventuali sappiamo essere certe, visto che il mercato, al contrario di quanto vogliono farci credere e cercano di propinarci, non è assolutamente perfetto. Uno Stato con moneta sovrana, e il Giappone ne è un esempio, può fare in modo che il settore privato abbia tutte le risorse finanziarie per migliorare l'occupazione, sia in quantità che in qualità, e controllare puntualmente che la spesa sia indirizzata allo sviluppo dei settori ritenuti di interesse o ritenuti strategici. Può perseguire una politica sociale di benessere comune, contrastando quindi i cicli economici negativi, anche attraverso il finanziamento di quei piani di lavoro garantito di cui abbiamo parlato insieme proprio durante la settima trasmissione. Bisogna ribadire con forza che lo Stato a moneta sovrana Fiat non ha bisogno di mantenere il bilancio inattivo come tendenzialmente deve fare una qualsiasi famiglia, una qualsiasi impresa. Lo Stato ha un altro scopo, deve badare alla crescita e al benessere dei suoi cittadini e non potendo mai fallire non potrà mai finire i soldi. Stiamo sempre parlando di uno Stato a moneta sovrana, quindi noi purtroppo non siamo più in questa condizione. Piuttosto il suo obiettivo, quindi l'obiettivo di uno Stato, deve essere proprio quello di operare delle politiche attese a fare sì che siano i suoi cittadini a non fallire economicamente. E proprio per questo diciamo sempre che le politiche monetarie devono essere anticicliche, le politiche dello Stato devono essere anticicliche. Vorrei che fosse chiaro assolutamente un messaggio. In uno Stato a moneta sovrana la frase non ci sono i soldi per fare le cose non può mai essere una scusa. Se le persone naturalmente e i mezzi economici reali ci sono, quindi se ho le risorse reali, ho le persone disoccupate, disposte a lavorare per attivare queste risorse reali, non c'è alcun tipo di problema. L'ho terminato e lascio la parola a Roberto. Sì, io vorrei, bellissima la tua riflessione, vorrei farne un'altra più filosofica che economica a questo punto. In fondo, come sappiamo, il termine economia deriva da economos, cioè le regole per condurre la nostra casa comune. Quindi economia, appunto, non è sinonimo di risparmio, tutt'altro. Ecco perché lo Stato deve spendere, per tutte le ragioni dette prima, ma anche per il significato della parola. Come abbiamo visto prima, appunto, uno Stato sovrano, con l'aiuto della finanza funzionale, regolando le leve a sua disposizione, può favorire il pieno impiego, può favorire il mercato interno, ma deve guidare anche un certo equilibrio nella bilancia con l'estero, diventando a tutti gli effetti e agli occhi di tutti gli altri Stati uno Stato etico, che non vuole sfruttare il lavoro altrui, né vuole essere sfruttato. Può insomma essere un esempio internazionale da seguire per virtù e valori, e non è poco. E tutto questo, il modello liberista, non lo persegue, ed è quindi disfunzionale. Perché non tiene conto, il modello liberista, di tutti quei fattori che gravitano nell'economia reale, degli equilibri necessari fra i diversi Stati. Un esempio banale, un esempio banale su tutti direi, il liberismo incoraggia il lavoro in Stati a basso costo, per poi rivendere i beni in Stati più ricchi, guadagnando sul differenziale costo-prezzo, sostanzialmente fa il casellante. E appare quindi evidente che il modello liberista ha altre istanze, come ad esempio l'interesse delle grandi corporation, l'interesse dei grandi gruppi finanziari, a scapito e quello sì in modo globale, di tutti i popoli. Grazie. Siamo in chiusura. Io credo che questa trasmissione sia di fondamentale importanza, proprio perché qui vengono dette cose che nessun altro dice. E quindi per conoscere la nostra situazione e anche per capire come uscirne. Ringraziamo quindi Massimo Russo e Roberto Alice. Siamo in conclusione. Massimo, vuoi dire qualcosa ancora? Allora, io ovviamente mi unisco ai ringraziamenti e alle tue parole, nel senso che questo programma è fondamentale per tutti i cittadini per entrare nel mondo dell'economia, che per troppo tempo è rimasta oscura ed è stata oscurata, anzi soprattutto dal potere, proprio perché non si deve capire come funzionano veramente le cose. Io ovviamente, come in tutte le puntate, alla fine di ogni puntata, prima di salutarvi, ricordo che le puntate sono visibili in differita sui canali YouTube e Rumble di Come Don Quixote, nonché ovviamente anche sul canale della MMT Italia. Inoltre questa è la quattordicesima puntata, la prossima sarà l'ultima puntata di questo ciclo, la puntata numero quindici, che sarà dedicata alle domande vostre, di voi spettatori. Stiamo facendo una selezione di quelle più importanti, di quelle principali, che insomma aiutino un po' a chiarire determinati concetti che erano un po' più complicati e se avete dubbi rispetto a quello che è stato il tema di questa puntata, quindi la finanza funzionale, potete scrivere una mail a mmtitalia.info. Direi che è tutto, ringrazio Roberto e Massimo per essere stati con noi. Grazie a voi per averci ospitati. Grazie mille per lo spazio dedicato. Un saluto a tutti. Un appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.